Mi chiamo Gerardo Leonetti, ho 54 anni e sono nato a San Biagio. Le unità principali sono degli eventi di natura religiosa che sono tradizioni da sempre, come la festa di San Biagio, le devozioni di San Biagio che sono dei panni azimi rettangolari, San Biagio è il protettore della gola, il protettore dei solatori e quindi c'è questa tradizione, il giorno di San Biagio, il 3 di febbraio, appunto si benedicono questi panni e ci sono le persone che vanno in giro casa per casa a portare in ogni famiglia questo pane. E poi c'è la festa di Sant'Agata, che è la nostra protettrice, una santa catanese, martirizzata con uno strappo delle mammelle e quindi noi festeggiamo questa santa con questi pani a forma di seni che vengono portati dalle agatine, sono delle ragazze, giovani ragazze sant'agatesi con un vestito di colore blu e rosso che sono i colori della statua della santa che noi abbiamo nella chiesa madre e quindi vanno in giro casa per casa a portare queste devozioni. Le devozioni queste anticamente si facevano nell'unica chiesa dedicata a Sant'Agata che si trova all'interno della corte del castello, quindi anticamente praticamente era l'unico giorno dove gli abitanti potevano accedere al castello, quindi i signori del castello facevano accedere alla popolazione appunto per benedire e per prendere questi pani di Sant'Agata. E poi man mano con Marchese Luffedo la statua è stata spostata, quindi diciamo che la tradizione è rimasta sempre con questa cosa. Questa storia sta portando avanti, chiaramente questa è una festa che porta avanti il comune essendo appunto la festa padronale, quindi il comune si fa carico ogni anno di questi pani a zbi da portare in giro in tutte le case. Poi c'è la tradizione gastronomica, chiaramente nel momento di aggregazione noi con una saga che rianziamo anche noi sui prodotti tipici, stiamo alla ventesima edizione, con i classici poi piatti nostri, cioè le orecchiette, il pancotto, e questi sono i piatti tradizionali della nostra. E l'anno scorso appunto abbiamo realizzato questa sagra anche con gli immigrati, quindi si sposa molto bene con quello che stiamo facendo. L'anno scorso abbiamo realizzato nella comunità dell'Ucraina, nella comunità polacca, dei piatti tipici e quindi nella sagra dei prodotti tipici nostri santagatesi abbiamo inserito anche questa. Quindi è stata una cosa veramente molto bella, con molta partecipazione. Poi c'è una grossa manifestazione che noi facciamo, è quella della giornata medievale, quindi rievochiamo, leggesta di un nostro, tra storia e leggenda, storia perché questo è vissuto realmente intorno all'anno 1000 con nome di Pantoffo IV, che era principe di capo, noi facevamo parte del Ducato Beneventano e quindi... E poi c'è la leggenda, la leggenda su Agatone, questo Pantoffo IV che diventa Agatone, un condottiero, sotto la volta del castello c'è l'efficio proprio di questo capitano Agatone e noi rievochiamo questa manifestazione appunto con una giornata medievale, con un corteo storico medievale, dove raccontiamo poi la sua leggenda. La leggenda dice che lui, appunto, condottiero, giovane, bello, applicava lo ius primenotris, quindi il diritto della prima notte e quindi chiaramente non c'era, tra gli abitanti a volte insomma non gradivano molto, però c'era il suo barbiere di fiducia che si doveva sposare e gli chiede insistentemente di non applicare questa legge sulla sua sposa. Lui è un uomo integerico, un uomo tutto di un pestice, no, la legge è legge, bisogna applicarla sotto. E quindi, mentre gli fa la barba, gli taglia la gola e quindi muore. Quindi noi rievochiamo, con questa giornata medievale, anche questa tradizione. Un'altra cosa molto sentita è una tradizione molto forte, che a memoria d'uomo va intorno all'inizio del secolo scorso, che è una festa che noi facciamo il giorno in suffragio dei morti, un piatto tipico, un cicci cotto, cioè chicchi cotti, grano cotto, che si realizza con questo grano che si lessa e si, anticamente si faceva solo con olio crudo, perché appunto essendo povero, adesso si fa con il vincotto, la cioccolata, le noci, con il melograno, cioè con chi ne metta per questa cosa e si fa il suffragio dei morti. C'era una cantilena, che io la dico in dialetto così e poi al limite la dico anche in italiano, questa cantilena diceva, cicci cotto, cicci cotto, refresca l'anima dei morti, cioè chicchi cotti, chicchi cotti, in suffragio dell'anima dei morti. C'erano i bambini che appunto con questa cantilena giravano il paese a prendere cicci cotto, quindi le persone davano questo dolce. Chiaramente adesso i bambini che girano per i cicci cotti non ci sono più, però noi da una due decina d'anni abbiamo riscoperto questo dolce e ogni anno, il primo di novembre, facciamo una manifestazione per questo dolce. Chiaramente, essendo un periodo particolare, essendo il paese, chiaramente è un periodo che fa freddo, però vengono molte persone, anche molti santagatesi che non stanno più qua per i loro defunti e quindi è stata una riscoperta molto bella, una manifestazione molto bella. Sono delle maestriche religiose, sono due delle clinici molto importanti che noi realizziamo. Uno, al santuario della Madonna dell'Incoronata, quindi la Madonna nera di Foggia, apparsa più di mille anni fa a Strazza K, un contadino. E c'è questo grosso regame tra Sant'Agata e Sant'Agata dell'Incoronata e ogni anno, l'ultimo giovedì del mese di aprile, c'è questo pellegrinaggio che chiaramente fino ad anni fa era totalmente a piedi, quindi considerate che sono circa 60 km, quindi era totalmente a piedi. Adesso chiaramente non si va, c'è solo un pezzo che si va a piedi e poi comunque si passa la giornata lì all'Incoronata. C'è un comitato che organizza questa festa e realizzano dei carri che portano appunto, ogni anno c'è un tema specifico e si realizzano dei carri. E poi c'è un'altra cosa molto sentita che è il santuario della Madonna della Consolazione che si trova però in Agro di Piediceto, quindi c'è questa cosa. C'è questa terza domenica di maggio, c'è questo pellegrinaggio molto sentito a piedi circa 20 km che si realizza ogni anno, c'è questa devozione, perché c'è anche questa... sicuramente non è una realtà, perché c'è stata una disputa tra Sant'Agata e De Piediceto per l'appartenenza della Madonna. Si diceva, no, è nostra, e quindi a un certo punto c'è una leggenda, sicuramente una leggenda, che dice che il quadro della Madonna della Consolazione si rivolse verso Sant'Agata, no, verso De Piediceto. E quindi c'è questo pellegrinaggio molto sentito alla Madonna della Consolazione. Poi ci sono altre manifestazioni, altre cose. C'è ad esempio una cosa in particolare che abbiamo scoperto negli ultimi 5-6 anni è un discorso di presepi. Abbiamo iniziato a realizzare dei presepi, anche perché nella nostra chiesa, nella chiesa Amata, c'è un grosso presepe, un presepe del 1600, tutto in pietra, attribuito a Stefano da Puchignano, che è stato uno dei più grandi, almeno per quanto riguarda la nostra regione. Il presepio è unico in tutta la Capitanata, è un gruppo scultorio molto bello. E quindi c'è questa cosa. Noi abbiamo, c'erano già delle manifestazioni spontanee di realizzazione di presepi nel nostro posto, però noi abbiamo realizzato 5 anni fa in collaborazione con l'associazione Amici del Presepio e abbiamo iniziato anche qui a Sant'Agata a fare dei corsi di arte presidiale. Noi andiamo da settembre fino a Natale, realizziamo qui nella Prologue in collaborazione appunto con questi amici del presepio, della sezione che abbiamo creato, noi come Prologue siamo stati i soci fondatori di questa associazione che si chiama Candela Sant'Agata di Puglia, cioè abbiamo unito questi due paesi. E quindi ogni anno insegniamo, non io, insegniamo delle tecniche di arte presidiale e poi realizziamo dei presepi molto belli che stiamo portando avanti, ripeto, da 5-6 anni con una mostra che facciamo nel periodo di Natale. Queste sono più o meno le cose. Di leggenda c'è una, si raccontava di un'altra leggenda, di un altro personaggio santacatese, un certo Pietro Baialardo ad esempio, che era un Fabio Ferrari, che chiaramente insomma era molto povero, aveva tantissimi figli e a un certo punto pare che si dice in questa leggenda che lui vende l'anima al diavolo pur di diventare, di avere qualcosa, per andare a mangiare i suoi figli. Chiaramente poi c'è indietrofine della leggenda dove lui si rende conto che avendo soldi, potere, perde l'affetto della sua famiglia, dei suoi cari e quindi lui fa di tutto per sciogliere questo patto scritto con il sangue, questo patto con il diavolo. L'unico modo per sciogliere questo patto era quello di assistere a tre messe consecutive dette dallo stesso prete nella stessa chiesa, che pare che sia una cosa che non si può fare. Insomma, lui trova il modo, andando a Roma, di fare, perché c'era un giorno particolare dell'anno dove questo era possibile, lui va a Roma e riesce a seguire queste tre messe consecutive stesso prete e stessa chiesa. E quindi scioglie questo patto e ritorna con la sua famiglia. E di questo esempio noi abbiamo realizzato, noi abbiamo un gruppo teatrale e sia sulla leggenda di Agatone sia su questo Pietro Pagallardo abbiamo realizzato degli spettacoli teatrali molto belli, insomma, chiaramente sviluppando molto di più il discorso. Ad esempio su Agatone, nel discorso teatrale, abbiamo immaginato gli ultimi giorni della sua vita. Chiaramente è stata un'immaginazione di chi poi ha scritto i testi teatrali. E così anche su Pagallardo siamo partiti da questa piccola, da questo frammento e abbiamo sviluppato chiaramente un discorso del genere. Questo realizziamo, come proprio realizziamo anche appunto questo discorso con un gruppo teatrale da 3-5 anni, c'è un gruppo teatrale che si chiama Comunità della Santa Catese, un teatro popolare, un dialetto. Un dialetto particolare, perché noi non abbiamo niente a che vedere con la Damia, proprio, perché noi siamo molto più vicini all'Irpinia, ma non solo come distanze, ma proprio come, cioè, fino agli inizi del secolo scorso noi eravamo in provincia di Avellino, cioè Sant'Agata, Accadilla, Sant'Agata, Monteleone, era una provincia di Avellino, adesso siamo tutti provincia di Foggia, Monteleone è l'ultimo paese prima della provincia di Avellino. quindi chiaramente la nostra influenza è esclusivamente campana, Irpina, ed è un dialetto che si avvicina molto di più, tra virgolette, al napoletano che non, anche perché il dialetto foggiano, della nostra età, è totalmente diverso proprio, cioè non ha niente a che vedere. Quindi, particolare sotto questo aspetto. Noi, spesso al nord, ci dicono, siete napoletani, proprio perché ci avviciniamo molto di più. Quando diciamo, no, siamo all'interno di Pugliesi, Pugliesi si è legati molto al dialetto barese, chiaramente, poi è anche più conosciuto, lo so, per Rino Banfi, per questi attori che hanno portato avanti, Cassano, che hanno portato avanti questo discorso. Noi invece siamo legati, siamo legati, siamo, tra le nostre elezioni, sono più legati a questo discorso. Ma noi abbiamo sia dei detti, sia delle esclamazioni, no? Noi abbiamo delle esclamazioni tipo uanavramengaoshe, uanavramengaoshe, che significa, cioè, un'esclamazione, che dici, possibile, è successo questa cosa. Cioè, questa è un'esclamazione molto, è praticamente un'espressione di meraviglia, un'esclamazione di meraviglia. Oh, mi meraviglio, cioè, uanavramengaoshe, cioè, è un'espressione di meraviglia. Oppure, un fatto, è possibile, che è successo questo fatto. Ma no, non è successo questo fatto. Cioè, è una cosa, ma di detti, ce ne sono tanti, negati a qualsiasi cosa. Ti dicevo prima, noi abbiamo già iniziato l'anno scorso anno con un progetto con la Fondazione del Sud, che si chiamava Oltre le Frontiere, che è un progetto poi che abbiamo realizzato come un di Puglia, dove hanno partecipato 33 prologo della Puglia, quindi, c'è stato veramente un coinvolgimento incredibile, tutti con gli immigrati. e quindi, l'esempio, ci sono progetto che hanno realizzato i cortei storici con l'inserimento degli immigrati, mostre fotografiche, fatte da noi, noi e altri e altri abbiamo puntato sul discorso della gastronomia, quindi, come vi dicevo prima, sul discorso dei piatti tipici, grossi e loro. Noi, intanto, continueremo sicuramente su questo discorso del piatto, delle tipicità che sono veramente, cercheremo di prendere anche il discorso delle tipicità a livello di artigianato perché anche sono delle tipicità molto belle, abbiamo fatto prima, avete fatto prima il discorso dei ricami, quindi portare il discorso dei nostri ricami con gli altri ricami e poi la cosa importante è che noi, ad esempio, stiamo già realizzando con i ragazzi della scuola superiore dove ci sono molti figli di immigrati, quindi molti ragazzi, molti giovani di seconda generazione che stanno qui con la conoscenza del diritto, il diritto al lavoro, il diritto della cittadinanza, cioè stiamo portando avanti dei progetti sotto questo aspetto. Chiaramente con questo progetto porteremo avanti proprio questo discorso della conoscenza perché il problema importante di questi nostri amici che stanno qui a Sant'Aga è che chiaramente conoscono i paesi ma non conoscono la nostra storia, non conoscono le nostre tradizioni e quello che noi andremo a fare. Noi ci impegneremo sotto questo aspetto, cercheremo di portare avanti questo progetto sotto questo aspetto. Grazie. Grazie.